Il senatore Marcucci parla guardando subito al passato, a quello che è stato, magari con un po' di nostalgia e un po' di malinconia. Noi invece vogliamo guardare al futuro, perché quello che nasce oggi e che la fiducia oggi, la fiducia mi auguro domani alla Camera, è un governo che guarda al futuro, è un governo di speranza e che risponde a quelle che erano le attese da parte dei cittadini. Il cambio di postazione, anche qua plasticamente visibile, è la conseguenza di una cosa che si chiama democrazia, di un voto, che è il voto del 4 di marzo, che ha decretato il fallimento e la bocciatura di chi ha avuto l'occasione, l'opportunità di governare il Paese. Il PD, Renzi, la sinistra, io dico non solo dal 2013, perché con Monti, dal novembre, dicembre del 2011, hanno assunto responsabilità di governo nel Paese. Hanno avuto la possibilità di poter governare, di cambiare il Paese, non l'hanno cambiato. Anzi, noi ereditiamo una situazione ultra fallimentare rispetto a questo Paese che oggi noi ci troviamo a dover affrontare, e il voto del 4 di marzo ha premiato delle forze politiche populiste, sono le forze politiche che rispondono a quelli che sono i bisogni, le esigenze e la necessità del Paese. Oggi si scrive una pagina importante. Adesso poi parleremo un momento della flat tax. Mi pare che anche al vostro interno ci siano state le posizioni diverse. Le famiglie, cominciamo dalle imprese, abbiamo anche una sua ragione, è più semplice e meno costoso, cominciamo subito, primo gennaio 2019, dalle imprese, poi arriveranno anche le famiglie. No, non è possibile, deve andare per tutti. Che succede? No, io credo invece che quello sia sicuramente uno dei punti qualificanti del contratto di governo. Beh, per lui è il punto, l'immigrazione è il punto. Proprio perché c'è una pressione, io direi una oppressione fiscale statale, che carica sulle imprese da un lato e sulle famiglie dall'altro, rispetto a quale bisogna mettere mano. Questa adesso lo sappiamo, da dove cominciamo? Si parte inizialmente dalla pacificazione fiscale, lo dico subito, non è né un condono né una sanatoria. Qual è la differenza con un condono? Parliamo di contenziosi limitati, siamo di fronte ad una procedura concorsuale, una procedura fallimentare, il cittadino, l'imprenditore non ha potuto ottemperare al proprio obbligo nei confronti dello Stato pagando... Quindi è solo limitata a quelli che hanno una procedura... No, 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 lei mi chiede, io dico... Quello è un caso, quello è un caso molto limitato. Sono cittadini che sono colpiti dalla crisi, imprenditori che sono colpiti, piccoli artigiani colpiti dalla crisi della situazione... Ma solo imprenditori o anche un comune cittadino? No, partite IVA, tutti coloro i quali hanno delle cartelle... Uno che non ha partite IVA... E qui taglia, parliamo di una somma, un ammontare pari a circa mille miliardi di euro, che lo Stato non recupererebbe mai, che l'imprenditore, il cittadino e la partita IVA non potrebbe assolutamente pagare o temperare, quindi non potrebbe far ripartire il sistema economico attraverso una procedura di saldo a stralcio... Però si tratta di tante, tante, tante persone, proprio tante, insomma... Parliamo di migliaia, forse anche milioni di cittadini che non sono nelle condizioni agibate, però... Uno che ha ricevuto, mi scusi, non ha ricevuto la cartella, d'accordo? Doveva dare 100 euro di tasse più, non so, 30 di interessi, che deve pagare 130 euro, o 1.300, o 13.000, o 130.000, va benissimo. Che cosa paga? A questo punto ci sono delle quote che vengono stabilite, che possono andare, che sono ovviamente a scalare, partono dal 6% fino al 25%, pagano, quindi saldano questa quota, che viene quindi stralciata e quindi loro possono poi continuare... Qui parliamo, perché finora le rottamazioni, che hanno avuto un grande successo, erano, benissimo, paga soltanto l'imposta e te la rateizzo, e ti abbuono gli interessi, che già ha fatto un pochino seccare quelli che invece hanno pagato tutto, ma va bene così. In questo caso voi fate uno sconto, cioè fate pagare soltanto dal 6 al 25% di tutto. Della montare. Quindi è un bel, bel, bel... Che consente allo Stato di poter incamerare e riportare in pancia soldi che altrimenti non avrebbe mai assolutamente visto, e consente all'imprenditore, al cittadino, alla partita IVA di poter riprendere la propria attività. Ti dà due tipi di benefici, il fatto di poter incamerare soldi che altrimenti non sarebbero mai più potuti rientrare nelle casse dello Stato, e quelli ti consentono a questo punto di poter coprire una parte della FLECTAX, quindi questa nuova riforma rivoluzionaria da un punto di vista fiscale, e dall'altro lato consentono all'imprenditore... Quanto tempo ci vuole per i calcoli che avete fatto per... Si parte da qua, si parte da questa prima proposta, e da qua poi ci sono il dibattito se si parte prima dalle imprese o dalle famiglie. È evidente che partire dall'imprese... Però dopo questa pacificazione... Il passo successivo... Ma per fare questo primo passo, quanto si bastano? 6 mesi? Non lo so, il tempo che il Ministero... C'è un Ministro che credo sia sufficientemente competente... Voi siete contrari per la vera e propria distribuzione del sussidio? Perciò dico, quindi, il reggio di cittadinanza, prima del primo gennaio 2020, non si vede. Così dicono loro, però il contratto non si dice. Ma credo che debba partire con una logica. Adesso però, francamente, mettere sotto processo un governo che non ha ancora preso... No, io non sto mettendo... No, io non sto mettendo... No, io non sto mettendo... No, io non sto mettendo un processo di intenzioni... Stato nei confronti delle aziende, cosa che non ha assolutamente fatto... E che avrebbe fatto un percorso a piedi. Io conosco i reti della politica. Chi sta all'opposizione, la liturgia prevede che bisogna sempre comunque contestare quello che un governo che non è ancora partito annuncia. Io credo e chiedo che questo governo venga giudicato sulla base di quello che ha fatto. Il popolo italiano ha giudicato chi ha governato questo paese in questi cinque anni nelle urne. Questo sarà un governo che con umiltà, sulla base di un contratto, sarebbe stato improponibile oggi che il Presidente del Consiglio venisse in aula a dettare... Ha già parlato un'ora e dieci. Se avesse dovuto dettare per ogni singolo provvedimento sono cinque anni... No, ma c'è un modo. È assolutamente inagentabile. Non ha fatto nessuna copertura. Come voi avete fatto due promesse molto impegnative. Il reddito di cittadinanza è stato talmente impegnativo che qualcuno che aveva capito male dopo i primi giorni di marzo si era presentato per l'incasso. E la flat tax è una rivoluzione vera, vera, vera. Però sarà d'accordo con me che siccome sono due provvedimenti importanti su cui noi mettiamo la faccia e rispetto a quale dovremo rispondere, credo che sia praticamente impossibile poter partire immediatamente con entrambi i provvedimenti, quindi sono ovviamente costruiti in modo tale che dilazionati nel tempo con le giuste risorse, con le giuste coperture, tant'è che il reddito di cittadinanza che non è, tant'è che cambia la natura rispetto all'impostazione originaria, non è una misura di puro assistenzialismo. Io do 780 euro ad una persona per stare sul divano di casa e aspettare il Messia. No, è a tempo tra l'altro, due anni, all'interno dei quali vengono fornite tre offerte di lavoro se non le accetti per di quel reddito, ma soprattutto parte attraverso la ristrutturazione di quello che deve essere il meccanismo principale per dare avvio al reddito di cittadinanza che deve essere una politica attiva sul lavoro, cioè i 2 miliardi di euro che vengono previsti per far partire i centri per l'impiego. In un anno, in due anni, questa sta nella bravura e nella capacità di riformare i centri dell'impiego che, indipendentemente dal reddito, devono tornare a funzionare per essere uno strumento importante per sviluppare politiche attive. Sempre se è possibile parlare dei programmi del governo senza anche prima di convincere. Non vuole, non vuole altro. Due curiosità che immagino che siano ancora non decise, perciò gliele chiedo anche per discutere. La prima, Tria, prima di diventare ministro, come molti altri economisti, compreso l'Europa, diceva, ma perché non la facciamo scattare questo aumento dell'IVA? Sono 12 miliardi e mezzo, potrebbero servire a finanziare i programmi di spesa consistenti, quasi 100 miliardi complessivi del vostro contratto. È una possibilità quella che si lascia partire questa clausola che aumenta automaticamente l'IVA? E la seconda questione è questa. Una sola cifra ha dato il Presidente del Consiglio oggi, e cioè taglieremo le pensioni sopra i 5 mila euro netti per la parte che non è coperta dal sistema contributivo. Mi può spiegare esattamente, se lei l'ha capito, se lo sa, insomma, se ne ha conoscenze di che cosa vuol dire? Per quanto riguarda l'IVA e la sterilizzazione delle clausole sull'IVA e sulle accise, credo che sia indiscutibile il fatto, tant'è che è scritto anche nel contratto e cosa di buon senso vorrebbe che queste clausole vengono e verranno inevitabilmente sterilizzate perché sarebbe un colpo mortale al sistema dei consumi del nostro Paese. L'ha ripetuto anche Salvini oggi uscendo dall'aula, quindi per quanto riguarda l'affermazione del Ministro Tria, è un'affermazione che è stata fatta tant'altro fa, perché lui ha una sua logica di impostazione. Me li riprendo con la crescita sostanzialmente, non se ne parla, perfetto. Invece le pensioni come funzionano? No, per quanto riguarda le pensioni, oggi tra le tante cose dette, noi facciamo affidamento su un principio e su una legge che deve necessariamente essere, almeno per quanto riguarda gli squilibri che essa ha portato, che è la legge Fornero, che è evidentemente sostenibile. Tra l'altro voglio ricordare perché nell'argomentazione di una condivisione anche con l'opposizione quota 100, c'è una proposta di legge depositata in Parlamento sul superamento della legge Fornero attivando quota 100, il primo firmatore di questa proposta di legge è l'ex deputato Damiano, ex Presidente della Commissione Lavoro. Quindi questa è la marcia rispetto alla quale noi ci incamminiamo per poter affrontare il tema delle pensioni e affrontando il tema delle pensioni anche il tema del rilancio del Paese, dando dignità a chi questa pensione se la deve meritare e guardando anche a futuro del Paese. No, scusi, il taglio, chiedevo, pulito, il taglio delle pensioni superiori a 5.000 euro. Cioè vedete, quello che non è coperto, mettiamo 5.000 euro, quello è la pensione coperta per contributi fino a 4.000. Da domani gliene date 4.000. Questo è il senso. Come no? Questo è quello, adesso io non so se lui, se il Presidente Conte facesse riferimento alle pensioni d'oro perché il tetto di 5.000 euro, il tetto di 5.000, il tetto di 5.000. Lì ci sono anche... Non so se sono d'oro però... No, quelle erano... Lui che ha fatto l'argento, quelle là. Ma oltre 5.000 euro, abbiamo capito bene, se uno ha coperto tutta la parte non coperta di contributi viene azzerata. Questo è il caso. La cosa non riguarda la maggior parte l'opinione pubblica che ritieni non essere coinvolta personalmente in queste storie, ma l'agente procuratore è grosso, soprattutto per un partito come voi che viene, diciamo, da una tradizione mi pare garantista, no? Limitare il programma sul tema della giustizia, dove tra l'altro io ho anche contribuito a scriverlo a questa proposta, credo che sia riduttivo e anche un po' effessivo. Il programma è grande, eccetera. Un conto è l'agente provocatore che il Presidente Conte non ha citato e mi permetto di dire che nel contratto di governo c'è la valutazione, quindi se il Movimento 5 Stelle riterrà di fare una valutazione anche comparativa con altri paesi sulla possibile applicazione dell'agente provocatore, credo che sia legittimo. Un conto è la valutazione, un conto è l'effettiva, facendo riferimento ad una convenzione che è quella di Merida. Invece per quanto riguarda l'agente sotto copertura è già applicato nel nostro paese. Mi lasci dire però che sul tema della giustizia, e qui lo dico e lo rivendico con orgoglio, questo non è un programma né, o un contratto, né manettaro né tantomeno giustizialista, perché parlare di legittima difesa, perché parlare di certezza della pena, perché finalmente inserire in un programma una figura che in questi anni è stata totalmente sottovalutata, che sono le vittime, con l'istituzione di un fondo ad hoc per le vittime dei reati violenti, cioè tu non vieni risarcito da parte del criminale e lo Stato contribuisce a risarcire e a ristorarti del danno subito, parlare finalmente sul tema del sovraffollamento delle carceri, che per affrontare il sovraffollamento delle carceri non rimettiamo in libertà che il reato l'ha commesso, ma costruiamo nuove carceri e magari facciamo scontare la pena al detenuto stagnolo nel paese di origine, o parlare di riforma della magistratura onoraria, 5.000 magistrati che sono stati oltremodo penalizzati da una riforma dannosa, che sono stati oltremodo precarizzati e danneggiati. Io credo che questa non sia una proposta manettare a dire che la ragionevole durata del processo, tanto in ambito civile quanto in ambito penale, siano delle necessità, perché il processo deve essere un processo rapido, certo, e deve portare a sentenze in tempi giusti, io credo che questa non sia assolutamente... Sulla prescrizione... La ragionevole durata è sulla prescrizione, perché lei sa benissimo che ci sono le persone che passano la vita in attesa di giudizio, perché i processi durano e certe volte vogliono durare tanto, quando soprattutto l'accusa è un po' fragile, io lo tengo sotto, abbiamo visto molti casi, gente, imprenditori arrestati, prosciolti dopo dieci anni. Allora, con la storia della prescrizione che si allunga, è vero che molti ne hanno approfittato per svegnarsela, ma molte persone rischiano di rimanere sotto processo per tutta la vita. Però posso dire che nel contratto di governo non c'è scritto che la prescrizione verrà allungata, anche perché mi permetto di dire che l'ex Cirielli è stata modificata dall'attuale governo allungandola ulteriormente. In quel contratto lì c'è scritto che ci sarà una riforma. Il Movimento 5 Stelle dice che per noi il termine di interruzione della prescrizione deve essere con la richiesta di rinvio a giudizio. Io gli dico chiaramente che non sono d'accordo. La prescrizione cos'è? È la pretesa entro il quale la pretesa punitiva dello Stato deve essere esercitata. Per noi non si tocca la prescrizione esattamente nel momento in cui si va a investire nel processo. Io devo investire nel processo e devo mettere il magistrato nelle condizioni di poter fare bene il proprio lavoro in tempi estremamente rapidi. Una giustizia che arriva lunga è una giustizia denegata. Quindi su questo tema, evidentemente, sul tema specifico della prescrizione, evidentemente ci sono delle posizioni diverse. Per noi prevale il principio della ragionevole durata del processo. 3-2-1, tre anni in primo grado, due anni in appello, un anno in Cassazione e lo si fa come? Investendo in maniera seria sul processo e nel processo. Punto primo, far arrivare il meno gente possibile. Punto secondo, sempre secondo le vostre promesse elettorali, rimpatriare. Voi avete detto mezzo milione sarebbero 600 mila, ma insomma non sottilizziamo. Che progetto avete? Io dico, punto primo, nessuno deve morire nel Mediterraneo. Sino uomini, donne e bambini e tutti devono evidentemente essere soccorsi. Voglio ricordare che negli ultimi anni nel Mediterraneo sono morte 5.000 persone all'anno per tre anni. Perché? Perché per non far morire le persone nel Mediterraneo le barche non devono partire. Più barche partono, più barche affondano, più gente muore. E quindi evidentemente affrontare il tema dell'immigrazione, gestirlo e non subirlo, come l'abbiamo subito in questi anni. A parte l'ultimo periodo dove il lavoro del Ministro Minniti, anche Salvini l'ha riconosciuto essere discreto, il problema della gestione dei flussi migratori deve essere affrontato non al di qua del Mediterraneo, ma al di là del Mediterraneo. Perché? Perché se l'immigrazione è un fenomeno globale, la risposta dovrebbe essere globale, ma non è stata una risposta globale. La risposta europea è stata totalmente insufficiente. L'Europa ha dimostrato di non essere la soluzione al problema, ma di essere il problema. Le relocation dovevano essere ricollocati per quanto riguarda l'Italia, 40 mila profughi effettivi siriani ed estriani, ne sono stati ripatriati, o meglio ricollocati soltanto 12 mila. Allora è evidente che la risposta deve essere da parte dei singoli stati nazionali. La Francia lo fa, la Germania lo fa, l'Austria lo fa. 500 mila o 600 mila è il numero complessivo, ipotetico e potenziale degli immigrati irregolari presenti sul nostro territorio, quindi chi ha perso il permesso di soggiorno o chi è uscito da una procedura di protezione internazionale. Rimpatriarne, come accade oggi, 6 mila all'anno, gli ultimi dati dicono che nel 2017 ne abbiamo rimpatriato, rimpatriato o forzosamente, o attraverso rimpatri assistiti, 6 mila persone, è un dato totalmente insufficiente. Cosa fare per rimpatriare più persone? E quindi per rimpatriare chi è clandestino? Bisogna innanzitutto rifinanziare il fondo rimpatri. Oggi è azzerato. Noi spendiamo 5 miliardi di euro dati del DEF per l'accoglienza. Ma questi arrivano dall'Europa? No, e questa è una domanda che cade a Fagiolo, perché dei 5 miliardi, da 4, 6 a 5 contenuti nel DEF, sono di destinazione europea 80 milioni, quindi il 99% dei fondi che vengono utilizzati per soccorso, istruzione, sanità ed accoglienza sono tutti soldi dei cittadini italiani. Noi chiediamo, e Matteo Salvini ha chiesto, che una parte importante e consistente di questi soldi destinati all'accoglienza, quindi meno soldi all'accoglienza, meno business per coloro i quali hanno lucrato e speculato sulla pelle di questa povera gente, deve essere destinata al rimpatrio. Per fare il rimpatrio servono tre cose. I fondi, servono le strutture che non devono essere laghere, ma devono essere strutture idonee per poter trattenere questi soggetti. Un periodo di trattenimento che deve essere proiettato a quelle che sono le indicazioni europee, non i 90 giorni attuali, perché con 90 giorni non fa in tempo a identificare e a rimpatriare. La direttiva rimpatri parla di 18 mesi, un termine massimo fino a 18 mesi, ripeto, non nel laghere, ma in strutture dignitose e civili. E' vero che dovrete mettere alcuni di questi centri anche in regioni in cui siete fortissimi politicamente, anche scontrandomi con sindaci che non vorrebbero? Io non credo che ci sia un sindaco in Italia che possa essere contrario a quella che era già una proposta fatta dal 2009-2010 dall'allora ministro dell'interno Roberto Maroni. Questi sono centri chiusi. E' vero che pensate a dei rimpatri di massa anche noleggiando delle navi passeggeri, delle navi delle grosse navi? I rimpatri vengono fatti secondo le forme stabilite per legge. La cosa importante è che questi centri che oggi sono i CPR, così denominati da militi centri per rimanenti per il rimpatrio, sono pochi e poco capienti. Devono essere, devono avere una capienza e una consistenza sufficiente affinché attraverso la ridefinizione degli accordi con gli stati terzi, oggi l'Italia ha un accordo importante con la Tunisia, non c'è nessun incidente diplomatico, a breve secondo me Salvini andrà a incontrare l'omologo ministro dell'interno tunisino. Il dato però è che l'Italia rimpatria 80 tunisini, 80 immigrati irregolari a settimana, un numero assolutamente insufficiente, quindi bisogna fare nuovi accordi. Ed è il migliore la Tunisia. Che è il migliore, esatto, e che è un partner strategico su due fronti, sul fronte dell'immigrazione, sul fronte del terrorismo, perché oltre alla rotta libica... Ci costa un sacco di soldi tra l'altro, ripatriare, costa l'ira di Dio. Credo qualche migliaio di euro a rimpatriarli. Posso dire però che secondo me costa meno rimpatriarli che mantenerli in accoglienza. Ah sì, sì, c'è una cosa, c'è dubbio. Perché anche secondo me si può fare di più su questa materia, io sono convinto che si possa fare di più e che ci sia ormai un consenso vasto in Europa per fare di più, quindi si può affrontare. E che ci sia parecchia gente che si è arricchita su questa storia, vogliamo dire. Ah sì, una piccola economia è nata intorno a questa cosa qua. Vogliamo dire che sulla gestione di questi fondi non c'è rendicontazione, non c'è tracciabilità, non c'è trasparenza. No, no, ma sappiamo tutti che il bug è pieno di di buchi questo sistema. La domanda è questa però, diciamo la parte migliore del lavoro di Miditi, abbastanza diciamo efficace, è stato quello di sospendere il traffico della Libia. Come? Con un accordo con le autorità libiche e anche con le tribù libiche. Noi diciamo tribù, ma in realtà erano quelli più o meno che facevano il lavoro di portare i migranti di qua, che li abbiamo considerati autorità locali, sindaci eccetera. Abbiamo dato dei soldi in qualche modo per aiutare lo sviluppo locale. Ora in Libia si aspettano di sapere se il governo, diciamo così, nuovo riscriverà, ricontratterà questi accordi, perché il punto è molto delicato. Speriamo intanto che li mantenga perché quello è in questo senso, cioè se continua a pagare, diciamocelo come... Volevo capire, siccome ho sentito che mi ha colpito la frase di Salvini che ha riconosciuto a Miditi di aver fatto un buon lavoro, un lavoro discreto, forse si riferiva a questa parte qua e l'annuncio che prorogherete gli accordi. Questo e non solo, io voglio il significato di questa domanda. Ovviamente la contrattazione, mettiamola così, con le autorità libiche più o meno istituzionali, credo che sia fondamentale. Nell'attesa di una stabilizzazione, evidentemente da un punto di vista politico, credo che a dicembre si voti in Libia sotto il controllo politico di altri territori europei. La Francia, Dostia... Stiamo attenti che la Francia non ci soffi il controllo, diciamo, l'influenza sulla Libia. Stiamo attenti. Quando Matteo Salvini dice che il lavoro del Ministro Miniti è stato discreto, si riferisce a questo, si riferisce al codice delle ONG che secondo me da alcuni punti di vista potrebbe essere anche migliorato e anche dal fatto che la Libia prende atto del fatto che il controllo delle proprie frontiere attraverso il pattugliamento e attraverso l'istituzione per la prima volta di un'area SAR in Libia, cosa che prima non c'era, evidentemente impedisce che le ONG, non tutte, alcune, continuassero ad essere dei traghetti per il marito. Dopodiché questo è un percorso che va a continuare. Mandarli tutti via, come ha fatto Salvini, è una ennesima promessa elettorale, profughi clandestini di fare la fatta fatta in una cuora vera. Ma credo che non ti sfugga il fatto che dal 2013 ad oggi voi avete scaricato sul territorio italiano 600.000 richiedenti asilo e ad oggi ci sono circa 200.000 fatti richiedenti asilo che sono accolti a spese dei cittadini italiani. Non volevo fare ponemica. Se il riferimento è a Orban, se il riferimento è a Orban, che non è il mio modello, se il riferimento è a Orban, Orban appartiene al Partito Popolare che oggi governa in Europa con i socialisti, cioè con voi. Non è un riferimento specifico, è un riferimento generale. Se ne agliamo una cosa importante però, che oggi l'Italia in Europa ottiene un risultato importante, aver bloccato il trattato di Dublino, Dublino 3, votato nel 2012-2013, governo Letta, governo Alfano, citiamo Miniti, voi avete avuto il ministro Angelino Alfano come ministro dell'interno, questo è un risultato importante, questo è un risultato, è un primo risultato importante perché il regolamento di Dublino che voi in Europa avete votato avrebbe penalizzato altremodo il nostro paese, sulle registrazioni, sulla valutazione delle domande di ammissibilità, sulla sicurezza e sulla distribuzione che sarebbe stata non automatica ma semplicemente volontaria. Quindi oggi segniamo un primo risultato importante, non tanto di Salvini ma per il bene del nostro paese. Quando l'onorevole mi fa parlare, io intanto il trattato di Dublino ricorderei all'onorevole chi l'ha voluto, chi era ministro dell'interno di Maroni, chi era primo ministro di Maroni. Assolutamente no, studia, il trattato di Dublino è del 90, il trattato di Dublino è del 90 e viene che nel Dublino 2 del 2002 il ministro dell'interno non era Roberto Maroni. Però chiedo scusa, chiedo scusa.